Musica io non lo sape quando sta caminando se le para una camioneta de la policia e lo agarra in a golpe il suo delito da lei è venire cargando un bolso che va a venire su bolso a lei? si, tutto questo fu il suo bolso che trae su margheria che lei non poteva vendere venire per la sua casa quando lo agarra se baje se tirano da la camioneta lo agarra in a golpeare senza farle una domanda quando lo agarra quando lo agarra salta il giù che il corpo quando lo agarra lo agarra lo agarra lo agarra lo agarra a bombero voluntario lo recogen a él, si me de desnudo solo en balser, lo llevan al hospital. Yo después, yo no dilato mucho cuando él falleció, estando dentro del hospital.